C'è chi insegna guidando gli altri come cavalli, passo per passo. Forse c'è chi si sente soddisfatto, così guidato. C'è chi insegna lodando quanto trova di buono e divertendo. C'è pure chi si sente soddisfatto, essendo incoraggiato. C'è pure chi educa senza nascondere l'assurdo che è nel mondo. Aperto ad ogni sviluppo, ma cercando di essere franco all'altro come a sé. Sognando gli altri come ora non sono. Ciascuno cresce, solo se sognato. Ciascuno cresce, solo se sognato. Ciascuno cresce, solo se sognato. Ciascuno cresce, solo se sognato.